Robert Johnson, tra i più apprezzati consulenti e life trainer a livello mondiale, sarà il protagonista dell'incontro promosso da Federmoda ConfCommercio dal titolo La Moda del Massacro, che si terrà nella sede provinciale giovedì sera. Ad anticiparci il convegno è il presidente di Federmoda, Matteo Garzaro. Sono dell'idea che non bisogna sempre fare la vittima, ma passare da essa a protagonisti e l'incontro serve a questo. Oltre al fatto di dare l'opportunità a coloro che vogliono affrontare le sfide del domani, trasformandoli poi in opportunità. Perché proprio Johnson? Ma chi meglio di colui che è considerato il medico della crisi, nonché quello dell'economia, viste le esperienze a livello mondiale, come il fatto di essere stato il consigliere dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, del noto imprenditore statunitense Bill Gates, del professionista della pallacanestro americana Michael Jordan, e di numerose industrie di primo piano, e la cosa che mi è piaciuta di più del suo credo, il fatto di distinguersi per non estinguersi, che voglia dire non ci sono vie di mezzo, o si vive o si muore. Cosa vi aspettate da questo incontro? Ma ci aspettiamo degli strumenti facili e profondi, quindi partendo dal fondo delle radici, quindi andando alle radici del problema, per affrontare questo impasse di mercato e tornare protagonisti delle filiere. Grazie a tutti!